Fare sistema è la parola d'ordine dell'incontro nell'ambito di Aspettando Sottocosta 2022 tra tutti gli enti abruzzesi che si occupano di nautica e di porto in particolare. Dunque una giornata per incontrarsi e per decidere se costituire un board che porti una sola voce alle istituzioni rispetto alle problematiche del settore. Fare sistema è importante in un settore come la nautica di Porto che ha un moltiplicatore economico, occupazione, sport anche in termini sociali ma non si rappresenta né viene considerata per il valore che invece esprime. Quindi abbiamo voluto chiamare i circoli, i rimessaggi, i porti della costa abruzzese per l'idea di fare sistema, di rappresentare tutta la nautica abruzzese per il valore che esprime e quindi magari costituire un advisory board regionale che non si sovrappone alle attività. Dragaggio, approvvigionamento di carburante e turismo, questi alcuni dei temi dibattuti nell'incontro di questa mattina. È un'iniziativa proposta da Asso Nautica che come sappiamo è promossa dal sistema camerale nazionale e che raduna tutta la filiera della nautica al proprio interno, quindi ci è sembrato giusto e doveroso accogliere questo invito, cioè quella di mettere insieme tutti quelli che hanno voce nell'ambito della nautica porti turistici, circoli, associazioni, federazioni, perché ci siamo resi conto che nonostante l'importanza di questo movimento per il PIL regionale non siamo mai stati rappresentati da un'unica voce e questo comporta una certa sottovalutazione da parte dei decisori pubblici nei confronti di questo settore. Una fra le tutte è la possibilità di avere un rifornimento di carburante che all'interno del porto diventa estremamente problematico in quanto vengono serviti i pescherici che hanno un regime agevolato e il di porto è escluso in quanto un gestore che lo faccia non si riesce a trovare. Immagini lei andare con le danichette con un divieto di buncheraggio esistente per fare il rifornimento diventa problematico. Anche per i transiti, lei consideri che noi l'anno scorso in regime di lockdown al porto di Vasto abbiamo avuto 190 transiti di barche, tutte quante di dimensioni importanti, di carature importanti. L'insabbiamento che c'è? E se si parla di un porto di un tipo di dimensioni è vero che è anche più grande il problema dell'insabbiamento, ma è anche vero che le risorse sono maggiori per affrontarlo, ma per un piccolo porto come il nostro, i 240 posti di barca, pensare di avere periodicamente ogni anno un problema di dragaggio con le spese che ci sono di oltre 50-60 mila euro all'anno diventa quasi un elemento che ti costringe a chiudere. Siamo quattro porti in Abruzzo, abbiamo delle prerogative diverse l'una dall'altra, però ci unisce dal punto di vista dello sviluppo turistico, ci unisce il territorio. Quindi se riusciamo a fare sistema legando i quattro porti e legandolo al territorio, credo che riusciremo ad offrire, a fare un'offerta turistica unica a livello italiano e a livello europeo.